Scopri il Touchpad AF Grazie al Touchpad AF puoi usare il Touchscreen per muovere il punto di messa a fuoco osservando l'inquadratura dal mirino. La funzione va attivata dal menu. Accostando l'occhio al mirino e toccando lo schermo, sposti l'area di messa a fuoco nel punto desiderato della composizione. Se ti capitasse di spostare il punto di messa a fuoco con il naso, puoi sempre aprire lo schermo per semplificarne l'uso.